Haute couture e design straordinario contraddistinguono il top model di la strada, il Nova M sposa dimensioni compatte e lusso. L'elegante involucro esterno in VTR, lavorato in modo pregiato e realizzato con la tecnica di costruzione a monoscocca, garantisce la robustezza e la longevità del camper. La forza motrice è quella del Mercedes Sprinter che grazie al motore da 163 o 190 cavalli si sposta in modo veramente veloce. Bello che ABS, ASR, ESP, airbag, climatizzatore, chiusura centralizzata e molto altro ancora facciano parte della dotazione di base. Sotto l'abito elegante il Nova indossa biancherie altrettanto pregiata, mobili eleganti, moquette, TNT su pareti e soffitti così come armadietti alti con ante in vetro o palino. All'interno domina il design pregiato, il gruppo di sedili AL circonda un tavolo dalle dimensioni adeguate. Su richiesta l'accogliente soggiorno può essere completato con un televisore dotato di impianto DVD. La cucina offre fornello a tre fuochi, lavello in acciaio inox, due soluzioni estraibili tipo farmacia, armadietti alti, tre ampi cassetti e un frigorifero da 80 litri. Molto pratico l'ulteriore piano di lavoro estraibile sotto al letto posteriore. Non manca proprio nulla. Il bagno è spazioso, luminoso e ben rifinito con materiale sintetico VTR. Dispone di una parete divisoria integrata per la doccia e di una porta scorrevole salvaspazio. Il letto basculante da 197 x 145 cm sopra la cabina di guida ospita due persone e offre l'usuale comfort del sistema Frolli. Per chi desidera avere ospiti, il letto posteriore dalle misure generose 205 x 95 cm è l'ideale. Sotto l'ampio garage posteriore, spazio abbondante per biciclette e altri accessori per due viaggiatori. In sintesi, il Nova M colpisce per il suo aspetto moderno e la robusta struttura a monoscocca in VTR. L'arredamento pregiato e il comfort di marcia con potenti motori Mercedes consentono a due persone di trascorrere una vacanza ideale.